No, negli anni scorsi i vostri amici non mi hanno detto nulla. Sì, noi stiamo facendo il progetto. Allora vi spiego brevemente che era Roberto. Roberto è un ragazzo un po' più grande di voi, che a seguito di un incidente stradale ha perso l'Iva. E noi allora abbiamo deciso di dedicarti questo premio in modo che quello che è successo a lui, speriamo che non debba risuccedere a voi, o a voi in un assenso generale, non a voi soltanto. Quindi lo portiamo in quasi tutte le scuole, diciamo, dintorni di Frosinone, perché non ce la facciamo a portarli oltre. Perché? Perché non si ci riesce fisicamente, non è che non vorremmo.